È un altro video. Non vuoi vedere questo o il tuo foglio? Ti voglio vedere cosa vabbè fare. Ah. Quassi, grazie. Iniziamo, vai, vieni tocca, hai fatto il percorso, hai fatto, per me? Quattro, tre, due, uno, via, uno, due, tre, quattro, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. One. 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 One.